zona di conquista brama di potere attivato indicatore guastafeste brama di potere attivato runa demoniaca in arrivo brama di potere attivato runa demoniaca generata revenant alleato generato 50 punti restanti zona di conquista indicatore zona conquistata demone alleato ucciso revenant nemico generato erdita della zona brama di potere attivato zona perduta demone nemico ucciso revenant alleato generato modulo H scaduto zona di conquista a metà strada per la sconfitta zona conquistata perdita della zona zona conquistata difensore difensore demone alleato ucciso timer di rifornimento attivato revenant alleato generato erdita della zona zona perduta zona conquistata ossessione demoniaca conclusa perdita della zona zona perduta 10 punti restanti zona di conquista il nemico ha raggiunto il punteggio limite sconfitta schiacciante sconfitta schiacciante Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Erdita della zona. Revenant alleato generale. Vendicatore. Zona perduta. Glorioso. Zona conquistata. Erdita della zona. Zona perduta. Ossessione demoniaca conclusa. Brama di potere attivato. Brama di potere attivato. Modulo AC scaduto. Brama di potere attivato. Brama di potere attivato. Brama di potere attivato. Brama di potere attivato. Zona di conquista. Brama di potere menti. Brama di potere attivarci. Brama di potere attività. Brama di potere attivato. Brama di potere attivati. Brama di potere attivazione conclusa. Non più in testa. Modulo H scaduto. Zona di conquista. Velocità. Intoccabile. Runa demoniaca in arrivo. Zona conquistata. Doppia uccisione. Runa demoniaca generata. Revenant alleato generato. In testa. Glorioso. Punizione attivato. Difensore. Perdita della zona. A metà strada per la vittoria. Zona perduta. Zona di conquista. Punizione attivato. Modulo H scaduto. Possessione demoniaca conclusa. Perdita della zona. Zona perduta. Zona perduta. Zona perduta. Zona di conquista. Zona conquistata. 50 punti restanti. Perdita della zona. Zona perduta. Runa demoniaca in arrivo. Indicatore. Zona di conquista. Runa demoniaca generata. Revenant nemico generato. Perdita della zona. Zona perduta. Zona conquistata. 10 punti restanti. Perdita della zona. Zona perduta. Restano 2 minuti. Prama di potere attivato. Demone nemico ucciso. Demone nemico ucciso. Revenant alleato generato. Zona di conquista. Zona conquistata. Possessione demoniaca conclusa. Raggiunto limite punteggio. Vittoria a stento. inclino della UNON все. I'm going back. Via un'esbitrati. ?? reasonsenha. Con Nat Mat男.